Quattro anni di minima questa quinta sul miglio su upside c'è Vincenzo D'Alessandro Junior otto in prima sei in seconda dopo la bella vittoria al rientro il fratello di Pascialest e lui il favorito mezzo meccanico in movimento molto arretrato una bella via la macchina in velocità è più che buono il lancio è e si lotta per i birilli emerge United in diagonale la tre di Ubertanov galoppa United e così si rinnova a vincente la lotta per i birilli tre cavalli sulla stessa linea quattordici a partire Uebi Lancer rientrato bene ma ora gradatamente sta dando strada a Ubertanov e Ubertanov prosegue con Jenny Riccio 400 in 29 e 6 passa per linee esterne arriva a bomba il 10 di Ukeli Adorio ma viene anticipato da upside OP e upside OP va al salchi di targata 9 44 e 8 sta passando upside top OP mentre Unilest è a largo e tenta gradatamente la risalita a largo anche Ullman fa buona andatura il nuovo leader un minuto e un po' di spiccioli e così di fronte il targato l'est va a far pariglia con Ubertanov cavalli di fronte punta in avanti il Baren di casa Minopoli chilometro in 16 1 15 e mezzo di frazione non lo perde di vista il 4 di Ullman gradatamente passa Unilest cavalli sulla curva finale la frazione se ne va in 14 e mezzo 1 36 tre quarti di miglio cavalli al completamento della curva finale Ullman va su Unilest retta d'arrivo Unilest al comando ma arriva fortissimo Udoji e l'allievo di Di Nardo fa sul serio e come fa sul serio Udoji 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 stampa Unilest per il terzo rientra bene upside e costringe il foa in foto Ullman due minuti e qualche spicciolo 1 15 1 10 e 20 in chiusura è arrivata bomba questo numero 14 di Udoji un figlio di Prodigius la camminata è quella questo bel sauro guardate proprio alla francese tempo per stampare il 6 proprio sul traguardo per il terzo vedete sono sulla stessa linea i due con l'allievo di Vincenzo che sembra rientrare a quello di Maisto ma poiché ha fatto l'errore prima di dare il secondo e invece era terzo il cavallo di Maisto attendiamo il giudice d'arrivo linea lo studio